Posso? Funziona? Ciao ragazzi, sono Padre Stratunati, forse vi ricordate di me per alcune dalle citazioni a pari sopra il forum, dal titolo Bocca d'Apple, sì, ma con rispetto, e Spare tardi la sera, no grazie. Sono stato appena ordinato parlo con la chiesa di Santa Maria della speranzosa speranza di sperare ancora in una speranza migliore. E voglio cominciare subito questa mia grande avventura dicendovi che sto organizzando un tour pullman per andare allo Yes Weekend Tour. Impazzisco per gli elettri di Rami, giovani, bravi e timorati non mi piace a me. Chi volesse partecipare può informarsi da me in San Cristina il martedì sera, dopo l'ora dell'ora individuale. Saranno dei weekend che ci faranno pensare, escluderanno i nostri ricami indiani. I ragazzi più grandi potranno addirittura bere una birra piccola da sorseggiare insieme a loro pranzo al sacco e alle immancabili varie eventuali. Ciao a tutti, la volta è stato finale. Grazie a tutti.